A seguito dell'emergenza che vede coinvolta l'Ucraina, molti comuni cilentani si sono mobilitati avviando fin da subito iniziative di solidarietà attraverso la raccolta di beni di prima necessità e farmaci da inviare alla popolazione in difficoltà. In questi giorni non mancano iniziative di accoglienza ancora più concrete attraverso l'ospitalità e il sostegno offerto ai bambini e donne nei nostri paesi. Un'attenzione particolare è stata rivolta ai bambini, quei bambini che il 24 febbraio sono stati svegliati dal rumore delle bombe ai quali non si può raccontare una favola ma una dura e crudere le realtà. Una realtà che vede protagonisti una popolazione divisa tra la resistenza e la fuga verso la salvezza. L'istituto comprensivo Pietro Visconti con le sedi di Ogliastro, Cicerale e Prignano-Cilento si è mobilitato accogliendo nei propri plessi diversi studenti. Sono 30 i bambini ucraini arrivati presso le strutture scolastiche dove potranno seguire le lezioni insieme ai coitani. Scoglio difficile da affrontare è la lingua ma la presenza di mediatori linguistici renderà tutto più efficace. La maggior parte dei piccoli risiedono ad Agropoli dove hanno trovato ospitalità presso famiglie o congiunti già presenti in Italia prima dello scoppio del conflitto e altri ad Ogliastro presso la sede della Fondazione Matteo e Claudina De Stefano. Dei 30 bambini, 14 frequentano la sede scolastica di Prignano, 5 di Ogliastro e il restante di Cicerale. Benvenuti fra noi, si legge dal profilo Facebook del comune di Ogliastro-Cilento, primo giorno di scuola per 5 bambini ucraini ospiti nel nostro comune, presso l'Istituto Comprensivo di Ogliastro-Cilento. Un ringraziamento al dirigente scolastico Vincenzo Rindina e a tutti gli insegnanti che sin da subito si sono prodigati per accelerare ed agevolare l'ingresso dei bambini a scuola. Un grazie speciale a tutti i nostri bambini che hanno dimostrato una notevole sensibilità rispetto agli eventi che hanno coinvolto i loro compagni ucraini. I piccoli studenti ucraini sono stati accolti dai loro coetanei tra bandierine giallo celesti, le melodie del flauto e il materiale da cancelleria che useranno durante le lezioni. Sarà una lezione importante anche per i nostri piccoli studenti italiani, i quali saranno più consapevoli della loro fortuna e apprenderanno tanto dai loro nuovi compagni. A Ogliastro inoltre sono stati attivati uno sportello di orientamento legale il mercoledì dalle ore 17 alle ore 19 e le lezioni di italiano per adulti il venerdì dalle ore 9 alle ore 11. Per accedere ai servizi non occorre prenotarsi, i cittadini ucraini presenti sul territorio possono recarsi direttamente presso il centro Ogliastro Accoglie.